Buonasera e bentrovati all'appuntamento con il nostro magazine i fatti principali occorsi durante la settimana nella provincia di Rimini. Il fatto principale di questa settimana è relativo alla vecchia governance di Banca Karim. La Guardia di Finanza ha notificato giovedì a 26 persone l'avviso di fine indagine. Nel mirino gli anni prima del commissariamento e le accuse sono gravi. Associazione a delinquere finalizzata al falso in bilancio. Questa l'accusa più grave, ma non la sola, mossa dalla Guardia di Finanza di Rimini all'ex governance di Banca Karim. Oggi i militari hanno notificato a 26 soggetti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari delegate dal sostituto procuratore Bertuzzi. Nel mirino gli anni pre-commissariamento 2009 e 2010. I vertici dell'istituto, secondo quanto emerso, erano soliti concedere mutui e finanziamenti non assistiti da adeguate garanzie, omettendo dolosamente, spiegano le fiamme gialle, di evidenziare nei bilanci le perdite già maturate da tempo tramite stime e valutazioni palesemente non corrispondenti alla reale situazione del credito. Secondo i militari, gli indagati, i membri del CDA e del collegio sindacale avrebbero sistematicamente partecipato al processo di concessione o revisione delle linee di credito a favore di soggetti o società da tempo insolventi. I vertici Karim, nel pieno della crisi, avrebbero omesso di effettuare la svalutazione dei crediti vantati nei confronti di clienti in difficoltà. Dalle indagini emergerebbero quindi valutazioni alterate, sproporzionate ed arbitrarie, sia nel bilancio al 31-12-2009 che nella relazione semestrale al 30 giugno dell'anno successivo. Se redatto correttamente, spiega la finanza, il risultato d'esercizio 2009 sarebbe stato non inutile di oltre 31 milioni, ma in perdita di oltre 4, mentre la perdita, già a bilancio nel 2010, sarebbe quasi raddoppiata, da 32 a 61 milioni. Ma non solo. Karim, per evitare, dopo la pubblicazione del provvedimento di commissariamento, una eccessiva svalutazione delle azioni, all'epoca valevano 21 euro, avrebbe proceduto all'acquisto delle proprie azioni in modo irregolare e ad un prezzo maggiorato, interferendo così in modo fraudolento sul mercato azionario. Per i vecchi vertici dell'istituto c'è quindi anche l'accusa di indebita restituzione di conferimenti per oltre 10 milioni di euro nei confronti dei soci che avevano venduto le proprie azioni alla Karim. Per concorso in quest'ultimo reato sono indagati anche i due commissari straordinari di Banca d'Italia che si sono occupati dell'istituto durante il commissariamento. E 24 ore dopo la notizia dell'inchiesta delle fiamme gialle sugli ex vertici Karim, sono arrivate poche righe a firma del presidente Sido Bonfatti per dire che Banca Karim ha preso dalla stampa la notizia della conclusione delle indagini e per rimarcare che nessuno degli esponenti in carica è stato interessato da analoghi provvedimenti. La banca, spiega Bonfatti, si riserva ogni necessaria valutazione in merito a tutela del patrimonio e della propria reputazione, sottolineando non solo l'estranità di tutti gli attuali organi di amministrazione e controllo agli addebiti formulati, ma soprattutto l'assoluta correttezza della gestione post-commissariale. Ma alla banca arriva una nuova forte sollecitazione dal Comitato Piccoli Azionisti che lancia un appello all'attuale governance. Serve un'azione per prorogare i tempi di prescrizione. Già lo avevano espresso nelle scorse settimane e oggi che arriva la notizia dell'inchiesta sugli ex vertici Karim, il Comitato dei Piccoli Azionisti torna a ribadirlo. Il CDA deve prorogare i tempi di prescrizione per le responsabilità della passata dirigenza, termini che altrimenti scadrebbero tra pochi mesi. La richiesta sarà rinnovata ufficialmente nell'Assemblea del 24 febbraio. Ripetiamo che l'attuale amministrazione deve, deve, ripeto, deve interrompere i termini di prescrizione. Se non la fa, delle grosse responsabilità. Per esempio, come si fa a chiedere agli vecchi amministratori di attivare le assicurazioni che loro hanno, avevano, se non si fa un'azione di responsabilità nei loro confronti? Sono milioni quelli che saltano. La nostra presa di posizione, anche rigida, nei confronti dell'attuale amministrazione, risale a quando era stato convocato dall'attuale Consiglio una riunione ad hoc ed era stata qualche giorno dopo revocata. Riteniamo incomprensibile l'atteggiamento. Taddia si dice comunque sorpreso dai pesanti capi d'accusa mosse alla vecchia governance, un po' meno dal fatto che tra i 26 coinvolti dall'inchiesta ci siano i due commissari, Sora e Carollo, che hanno gestito Karim durante gli anni del commissariamento. L'Aeradria è stata finanziata e poi si è visto come stanno andando a finire i finanziamenti, anche sotto la commissariamento. Era assurdo, i controllori non hanno controllato qualcosa, che ci hanno dato il finanziamento che non era coperto da garanzie e non si può recuperare, insomma, è la Banca d'Italia. Non è che ti fa una gran bella figura. Sono cominciati mercoledì in Tribunale Rimini gli interrogatori nell'ambito dell'operazione Icaro della Guardia di Finanza, che vede 34 persone indagate a vario titolo per il fallimento di Aradria e delle società collegate. Il primo ad essere ascoltato è stato l'ex presidente della società di gestione dell'aeroporto, che all'uscita dall'aula non si è sbottonato. Ai cronisti niente più di una sobria frase, prima di accendere un sigaro per sfogare l'attenzione di un interrogatorio di oltre due ore da parte del giudice per le indagini preliminari, poi Masini ha salutato, accompagnato dall'avvocato Cesarina Mitaritonna, all'interrogatorio era presente anche il sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Masini è uno dei nove indagati con l'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta ed è sottoposto all'obbligo di dimora. Dopo di lui sono stati ascoltati Santo Panzica e Fabio Rosolen, ex amministratori di Riviera di Rimini. Domani toccherà Massimo Vannucci, vice di Masini ad Aeradria, ed Alessandro Giorgetti, ex presidente di Aer. L'attenzione dell'inquirente è infatti rivolta anche al ruolo di Aer e Riviera di Rimini, le due società che gravitavano intorno alla gestione dell'aeroporto con lo scopo, secondo l'accusa, di far arrivare denaro per coprire il buco di 52 milioni di Aeradria. Due anni di indagini per venire a capo di un sistema collaudato di patenti nautiche false. In manette sono finiti un marescial, un luogotenente della Capitaneria di Porto di Rimini, con accuse come concussione, rivelazione di segreto d'ufficio e corruzione. Accertati casi dal 2000, ora prescritti, ma che sottolineano come il gruppo svolgesse da tempo la sua attività. Dal 2006 hanno guadagnato diverse decine di migliaia di euro fornendo patenti nautiche senza che nessuno abbia mai affrontato alcun esame. A mettere a punto il sistema il maresciallo Claudio Stasi, 53enne, e il luogotenente Vincenzo Loiacono, 58enne, in pensione da otto mesi circa, entrambi in forza alla Capitaneria di Porto di Rimini. A far scattare l'inchiesta le dichiarazioni ai carabinieri dell'allora presidente della cooperativa Pescatori di Cattolica, l'uomo doveva commutare il suo titolo di guida professionale in patente nautica da di Porto e si è rivolto alla Capitaneria di Rimini, dove Stasi gli ha offerto una semplificazione della pratica per 400 euro. Altre dichiarazioni, alcune anonime, parlano poi di un certo Mr. 5 per indicare la percentuale che Stasi pretendeva, 500 o 5 mila euro dunque, per evadere le pratiche, e di un'agenzia, la Migani di Bellaria, come è stato poi appurato, dove era più facile ottenere la patente. Il titolare, in accordo con il maresciallo Stasi, membro tra l'altro di tutte le commissioni di esame dell'epoca e di un altro graduato di Cervia, rilasciava patenti nautiche oltre le 12 miglia marine, previo pagamento dai 2-3 mila euro per fornire risposte esatte dei test e prove di carteggio. La prova pratica veniva invece completamente saltata. Con la collaborazione del personale della Capitaneria, i carabinieri hanno esaminato decine di documentazioni d'esame, trovando una patente conseguita nonostante 5 errori nel test. Si tratta di un pesarese che tramite l'uomo giusto all'interno della Capitaneria di Pesaro ha pagato 1.300 euro per il documento rilasciato poi da Rimini. 9 per ora i civili coinvolti nell'indagine, 7 pesaresi, uno di Bellaria e uno di Savignano. Sono diverse le posizioni da controllare, per ora 30 le pratiche, ma potrebbero essere molte di più. Abbiamo più che altro il sentore che effettivamente ci possono essere tantissime persone che al momento attuale girano con l'imbarcazione in mare, creando di fatto delle situazioni di pericolo altissimo. L'indagine, come ben sapete, è stata denominata piovra dall'arma dei carabinieri per il riferimento al fatto che questi soggetti avevano una gestione quasi totale delle pratiche per il rilascio della patente e anche perché man mano che si scoprivano degli illeciti collegati alle patente e ne uscivano altri. Nella notte tra lunedì e martedì in una villetta della Grotta Rossa Rimini è scoppiato un incendio che ha fatto vivere momenti di paura agli occupanti bloccati all'interno, un'anziana e un'disabile. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Un intervento concitato in una situazione che stava diventando drammatica ma che, a parte i gravi danni all'abitazione, si è concluso senza conseguenze per nessuno. Poco prima delle tre i vigili del fuoco sono stati allertati per un grosso incendio scoppiato in un villino a Rimini in via Fornasara nelle campagne della zona Grotta Rossa. Al loro arrivo hanno trovato all'esterno un anziano 78enne che, gridando, chiedeva aiuto per la moglie e il figlio disabile ancora dentro l'abitazione bloccati dal fumo. I soccorritori li hanno tratti in salvo entrando alla finestra di un terrazzo. Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale. I vigili del fuoco hanno messo in salvo anche tre cani che sono stati affidati alla custodia del canile di Rimini. Il rogo sarebbe partito da un cortocircuito a una presa elettrica. Da quantificare i danni da fumo all'interno, il primo piano è andato completamente distrutto. I vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi e dodici uomini, sono rientrati alle sei. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i carabinieri. Arrestati dalla squadra mobile di Rimini un 23enne e una 21enne, entrambi albanesi, accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e lesioni lievi con arma da taglio. I due sono stati fermati in una residence di Torre Pedrera. La polizia ha intercettato le minacce dell'uomo ad una giovane albanese. Con me non gioca nessuno, ti ho portato io in Italia e quindi sei mia, di te faccio quello che voglio. Con minacce come questa Florian Prini, albanese 23enne, assoggettava una delle ragazze che facevano parte del suo gruppo di prostitute. L'operazione della squadra mobile di Rimini ha portato in carcere Prini e la compagna 21enne Fabiana Oxa, sempre albanese, con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e lesioni. Le indagini hanno preso il via a giugno 2014 dopo una lite tra prostitute sulla Adriatica, finita con il ferimento di una donna con un colpo di coltello alla coscia. L'attività posta in essere dalla squadra mobile, che dura da circa sei mesi, ci ha permesso di ricostruire l'accaduto, di addossare le responsabilità agli aggressori e soprattutto di scoprire un vasto giro di prostituzione gestita da una coppia di albanesi che sfruttavano alcune ragazze ungheresi e che estorcevano denaro, o comunque il loro intento era quello di estorcere denaro, a coloro alle quali non appartenevano alla propria scuderia. Le vittime e quattro prostitute ungheresi indipendenti hanno poi riferito alla polizia di un uomo che portava le altre ragazze in macchina e che aveva chiesto a chi non faceva parte del suo gruppo 50 euro al giorno per poter esercitare. La svolta è arrivata qualche mese dopo con il fermo e l'identificazione della OXA, riconosciuta poi l'autrice del ferimento. La donna, una volta rilasciata, era stata pedinata fino al residence di Torre Pedrera, dove ha incontrato Prini. Importante nell'indagine è stata la collaborazione delle prostitute aggredite. A settembre una di queste era contata alla polizia di una coppia che gestiva un gruppo di ragazze e ha riferito di una giovane albanese portata in Italia e costretta a prostituirsi nonostante fosse malata. La ragazza era minacciata dall'uomo e temeva ritorsioni per sé e la sua famiglia. Le aveva sottratti documenti che neanche dopo il pagamento di 1300 euro da parte dell'amica prostituta erano stati restituiti. I due sono ore in carcere per il pericolo di fuga. L'ufficio scolastico provinciale rende noti i numeri delle iscrizioni alle scuole superiori riminesi. Dai dati, ancora provvisori, emerge comunque una ripresa dei licei a discapito della formazione tecnica e professionale. Alla scadenza delle iscrizioni sono state presentate 2745 domande per le 17 scuole superiori riminesi. L'anno scorso il dato definitivo era di 2855, prevedendo come ogni anno iscrizioni fuori termine. Il saldo negativo è dovuto anche a un calo demografico. Si registra per ora un calo dell'istruzione tecnica e professionale, tranne quella del percorso turistico e dell'indirizzo professionale enogastronomico. Tiene invece l'insieme dei licei, scelto dal 47% degli studenti. Il 33% sceglie gli istituti tecnici, in crescita il Marco Polo, il 20% l'istruzione professionale. Si conferma il trend degli ultimi anni nella crescita del linguistico e delle scienze umane, mentre c'è una certa riduzione di attrattiva per il percorso ordinario dello scientifico e una forte richiesta dello sportivo. La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Agostina Melucci, registra il ritorno ai licei dopo anni di investimento delle famiglie sulla formazione tecnico-professionale, ma sottolinea anche con rammarico la minore attenzione verso i licei, dove il latino resta parte fondamentale dell'offerta formativa, lingua tutt'altro che morta per la Melucci. Il latino è la base essenziale del pensiero scientifico di domani. In tanti hanno affollato giovedì pomeriggio la sala del giudizio del Museo della Città di Rimini per l'incontro con Rav Levi, rabbino di Firenze, invitato dall'editore Mario Guaraldi. Al dibattito dove essere presente anche il vescovo Lambiasi, che purtroppo ha dovuto rinunciare per la concomitanza con la celebrazione del funerale del vescovo di Monera, Lanfranchi. È arrivato sul finire per portare il suo saluto al rabbino. In sala un dialogo proficuo e tante domande, fuori uno spiegamento importante di forze dell'ordine, vista la delicatezza del tema affrontato. Paolo Guiducci, caporedattore della settimana del Ponte, ha intervistato Rav Levi. Uno sguardo sull'attualità. È passato soltanto un mese dall'attentato di Parigi a Charlie Hebdo, eppure la situazione attuale è già completamente cambiata per colpa di altri atti terroristici e di questa guerra che sembra alle porte in Libia. Come giudica Rav Levi questa situazione attuale? Sono tempi difficili. C'è una fluidità, c'è un gruppo che apparentemente non è grande, non è così importante, che però vuole annunciare una religione universale che vuole imporre a tutti gli altri. E allora pericoli ci sono. Ci vuole quindi fermezza, decisione e sapere come affrontare questa situazione abbastanza complicata, anche perché ormai si è insediato in tutte le città europee e americane e quindi non sappiamo esattamente cosa può succedere domani. Ci vuole un accordo internazionale, riconoscimento del pericolo e un'azione comune. Io penso che a questo punto della storia, dopo la nostra età, dopo la Shoah, dopo tutto quello che ci è successo nel XX secolo, siamo un pochino più saggi e spero che faremo di tutto per mantenere e scegliere la via del dialogo, della comprensione, dell'amicizia, del rispetto delle diversità per creare un mondo migliore. In chiusura vi ricordo l'appuntamento per gli sportivi di domani con 92.00 Minuto su Radio Icaro e Icaro TV a partire dalle 14, quello con Overtime della domenica a partire dalle 19.30. Vi ricordo che ci trovate anche sul sito newslimini.it A tutti una buona domenica.